Ricordo la sfida per noi cruciale, l'Italia chiamata a decidere, a scegliere se contribuire a una nuova stagione europeista o se invece ripiegare verso un rischio sovranista, nazionalista che riguarda alcuni paesi europei e non certo altri. Noi siamo, come sapete, seccamente per un lavoro forte, deciso, per fare in modo che l'Italia contribuisca al pari di altri grandi paesi, la Francia, la Germania e non solo, alla scrittura della nuova agenda europea, del cambiamento necessario per avere più Europa. Ci sono altre forze che hanno un'idea diversa dalla nostra, su questo noi fondiamo un punto essenziale di ogni e qualsiasi confronto, perché è il vero cambio di scenario, il vero asse strategico su cui possiamo impostare tutto il resto del nostro lavoro.